Il 73esimo festival di Sanremo si è concluso lo scorso sabato 11 febbraio, riuscendo a raggiungere ascolti che non si vedevano dalle edizioni storiche di Pippo Baudo. Con una media del 62% di Cher, si conferma il festival più seguito dal 1995. Tuttavia, questo non è bastato per placare le numerose polemiche. Sotto accusa scelte che non sono piaciute a una grossa fetta dell'opinione pubblica e della politica. A tal proposito è intervenuto anche il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi. Per il critico d'arte, l'evento musicale è stato un vero e proprio fallimento. Intervistato da La Repubblica, ha sviscerato la sua opinione sulla kermesse musicale e non ha risparmiato nessuno. Neanche Amadeus. Lo share al 66% per Sgarbi non è un motivo sufficiente per ritenere valida quest'edizione del festival. Ma non possiamo misurare il festival solo dai numeri. Contesto la linea culturale. Hanno affidato le chiavi a Ferragni e Fedez. Cioè ai social. Alla moda. Al consumismo. Nel suo mirino sono finiti nuovamente Chiara Ferragni e Fedez. Un. Incapace. E un. Provocatore. Che hanno trasformato Sanremo nella sagra del consumismo e capitalismo. Neanche i brani in gara hanno potuto combattere il centralismo dei Ferragnez. Anche perché sono state presentate, canzoni senza arrangiamenti né testi. Tutte uguali. È arrivata poi una stilettata verso il direttore artistico del festival. Mi sta simpatico. È mio amico. Ha esordito. Ma poi non ha salvato neanche il padrone di casa. In fondo. È sua la parola finale e la linea editoriale scelta da Amadeus è stata. A detta del saggista. Mediocre e fallimentare. Per questo. Ci sarebbe bisogno di un cambiamento. Al suo posto io avrei messo Morgan. Andrebbe cacciato per la mancanza di idee. Ma lo terranno lì. Perché comanda Lucio Presta. Non è di ferito. Non è veri messo. Non è veri messo. Non è veri messo. Miuffy, metano lui.